ok benvenuti per max cinta brevita messa sia la max dimmi quando lo vedi lo vedo in cima a un grattacielo vita con a strecce che così via forza è una vita a parallela e sto c'erano l'acqua uomo donna gli asti nasce il mondo è capito a donna il capito che ci fa lì c'è tamro p lo vedo che sta lavora in questo grattacielo in questo momento è lì che sta abbassiando delle piantine in cima a questo grattacielo però che tanto tempo tempo il momento c'è potrebbe essere creato e che succede sta lavorando mi mostra questa situazione dove lei in questo caso perché donna comunica con con una pianta in particolare gli astracci e prazze e poi cosa dimetono situazioni comuni qui c'è se non sto con ora si non fa sotto e cross tento ma le stacco coltivando operata caroscena è come se in questa vita lui lei fosse l'ha detto alla alla verde si al sopra un grattacielo come se ci fosse un mini giardino creato se gli aspa prosto che mi sta un'altra cosa in cui esce tempo ten con la storia scena mi ok chiedi l'autorizzazione a questa donna e quindi a max per la sessione tu sapete ai metterò saposo valgine max ha it a un coppietà un altro provato in testa sì sì mi offre un fiore tac dai posto valgine padara poi anzi mi fiat ok facciamo frasi brevissime causa esoterica del motivo per cui la ps dimostra questa vita ciò c'è nata teresa factor sa tu sapo cosa che faccia torce c'è in una cosa strana come se questa pianta fosse legata alla all'ex moglie va bene chiamiamolo subito così non ci pensiamo più capas di me o tra sapevo zona si presenta poi arriva c'è si arriva una donna con dei capelli lunghi neri è un velo davanti nero tac poi aveva c'è copia tanto che mi torni mi possa mi mosa creta un falso ok allora andiamo con la moglie l'ex moglie che si è appena presentata max e tutti noi andiamo all'esorcismo tutta la sua time access max e miglia con un giorno in merce stelta i mesi un tasto nel giro 70 anni exorzio smotteremo che un max per le tue frequenze isolati dimenti tutte le entità che ci sono e dimmi se l'esorcista un prete poverti mia che tanti anni state i temi e cosa stessa un mister che chance io vedo un prete ma quello che vedo è che in queste questa scena che sto vedendo c'è uno scambio di di diciamo ecco sì nel senso comunque c'è un'entità che fa una cosa e l'altra ne fa un altro e c'è uno scambio tutta che la presa in giro io vediamo le entità che ci ferrano prima nella moglie e l'entità che ci sono dopo l'esorcismo cosa faccia trasera che è stata per i giorni ad exorzio ma che è stato d'osso ipotem exorzio io vedo dei li li vedo come percepiamo come vediamo noi un diavolo una sorta di diavolo con le corne prima primo c'è d'exorzio ma in vita che sta attraverso m ecco poi 3 diavolo altro cami secondo universo per un universo il diavolo con le corne di demone vediamo nel secondo che questa monas trucchi cosciata ok e dopo l'esorcismo c'è stava potente forza è lui medie l gesù vedo come c'è stata c'è cristo io so sa cioè in realtà è un dopo è come se prima praticamente del di questo atto lei fosse stata comunque interferì da in maniera forte da questi esseri demoni di visualizzo cosi che dice di essere gesù esattamente c'è 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 chris neanche sparte mentre demonami ai statani certe stemi sono messi per bordo a tavolino cioè questo amiciato a cartare quello che vedessi e come se ci sia un accordo dove viene detto viene fatto uno scambio c'è adesso prima era di questo genere di entità e poi dopo viene presa da edl gesù è lui tassi fatta c'è il video sotto sotto anche quest'anno a catania c'è zona per voi e tagliarne stati a portare a costituzione italiana sapere stata in nato di stato effettiva dalla posizione in cui ti trovi sabrina se io dico polizia suo buono polizia toccattivo ha visto che capisce dita non si sia come lo come li percepiamo noi buono cattivo ma in realtà tutte e due le parti fanno quando la coltato cattivo entrambi sono d'accordo ma uno fa la recita del polisato cattivo il demone l'altro la recita del polisato buono e gesù tl ma entrambi se stanno approfittando una parte da catarici mentre stavo ogni mano che tenere su vetro che il taro tecna craft non poter fanno estroni e i tantani atto sotto a gesto in d'opera un po temata con la parte 60 mesi allora mando io un messaggio scrivendolo su un foglio un messaggio eterico al demone e questo messaggio scrivo che noia teatro svesse via da mostrata catemo nata confiata ma scelta retina alle ultrapienne personalmente trovo che l'esorcismo sia una delle cose più stupide e noi use in assoluto di questa creazione fallata alenno da tecna pravdo vaso ma sabisti sa exerze smettare cattivate creazione talmente sopravvalutata che ci hanno fatto film su film sta che segna non usato la posta vena per film è una tanta ma che mando un bel messaggio con scritto sopra che noia a tutti i preti che hanno pensato di far qualcosa durante un esorcismo non ho fatto un cazzo tutta la stessa mancata ma ciò scritto in scienza ma exerze stami viadano cuoci alla nuda attacca pratica fresca esortesme danita cota ma parte mi ha provato chiama tutte le vittime delle di un esorcismo sabrina sabrina valiglia morti vesti che offriare esercizionata l'agite settore e mostriamo loro la buffonata a cui sono stati sottoposti ipocasme la buffonata della religione che non esiste che non li ha salvati copota la nostra religione tratta caprate di signorato fa si arrivano molte psp sia buffonata dei demoni che non esistono 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 tu li vedi edita sì come ok niente niente perché sono scomparse le immagini che succede sono arrivate le psp e che anche che stanno di là che sono disincarnati per vedere per prendere questa questa visione di quello che gli stiamo passando l'informazione diciamo si stanno rendendo conto quindi le vittime benedetto sopravvete a schiaffiare exorcismo soltanto sai c'avete riuscita sarò non so che io ho saputo il smart way di a rontano informati a tutta la nostra rossa si presentano però il 65 per cento poi avesse conoscere di sapiens però sento la moglie di max rimane cesta zona max la moglie di max è lì che da quando l'abbiamo chiamata adesso si è allevata il velo nero e si sta prendendo queste informazioni già ma max è stata che non totale cosa fa di smith raggiunga sapete in charles veloni viaggiato un'informazione però continua avere le mani continua quello che vede come si sta cercando di pregare quindi non so quanto le brand le informazioni alla mia pianta che una parte i resti informati un po brava poi ne faccio di terzo natale ma renza uosana tec domotrice ok allora chiede le dl gesù che l'ha salvata di dare un messaggio a questa ex moglie di max e di dire esattamente cosa pensa dell'ex ma questo progetto da terra smir povi e tentani jesus è stata un ciclista ogni povera teresa tigioni a cari strada io e anche tutto il progetto caprate oggi dice schiava come un altro è stata certe stiamo veniva ogni data che sostegni e continua a pregare l'ex moglie a tarzana natale c'è motri questo momento no ok passiamo queste informazioni di tutte le sessioni a tutti i preti che hanno fatto un esercizio fatta la scuola i messi a schietta in farmazie c'è un show che c'è un show che ridere che c'è uno esiste e nel via si sono presa resta una carta c'è mi si visualizza così ma certamente sia nel dl la concetta che il copro tanto mi raccoglioso sono gli strani di stata c'è questa le informazioni l'abbiamo passato ai preti però molti hanno maniera proprio radicata un'idea che lì li frega e poter rispettata in farmaci e tema che c'è un show allo snick matagosa cosa non è stata sfoglia un po sfoglia un versetto di storia mai un po conoscete informazioni poi quello che vedo è che il battesimo è una quando viene fatto su un bambino appena nato in maniera anche un sapevole ea come un marchio già da lì evitata caprate uscosa magbeck fest saggata che non sono smacchiani in jazz car system o mancia per fortuna io non ho questo marchio ea nostra insieme a monta con una satana sabrina andiamo alla mente collettiva e cerchiamo se esiste un'entità mentale preposta a tutto il discorso dell'esorcismo tutta la sabrina utari mesciando un messo con l'acto negli sabato tristinità mia casta caristotta attraverso profeta al nasa sas exorcismo è una sotto sotto categoria di un'idea nella mente collettiva del discorso che bisogna credere in qualcosa di divino presa casta capote categoria vi eugenia cultura movi nam tra movi ruta c'è il divino no è il discorso esorcismo nella mente collettiva che è lo visualizzato non ho sentito nel divino sia come se sì sì ok va bene chi è che collegato a questa idea chiami a tutte le ps le pie delle persone collegate a questa idea e diamo questa informazione che è una bagianata a tutte queste ps queste p e tutta la svesa che tu sai c'è un'altra via john fustoy dai mente che informati a terra in parte del mondo poi ripetere che non ti ho sentito gran parte stiamo facendo delle palline di informazione le stiamo mettendo dando a chi le vuole prendere faccio mettere la seguita che col che in farmazione in rosario ma ii tempi scritto c'è ok questa entità come si chiama thai stati a crescere mi dice jesus vabbè ok l'ex moglie di max ha capito che c'è un'entità mentale dietro a tutta la fregatura a cui è stata sottoposta c'è una zona max a terra sfide allora si è allevato anche il vestito nero in questo momento perché prima aveva un velo un vestito nero il momento è stato capito un turno su cliente a torno brani che tremiamo apposate in valonna riuscire a sapere che va e si è vestita di un vestito bianco io stavo solo sappiamo come per farci comunicarci che comunque le informazioni le ha le ha prese capire tra che c'è una spagna ferma facciata non sapo bravata in farmazie ok in una frase causa esoterica della sua morte e la siano stagna in più c'è nasa 3 c'è ma gli smerci combattimenti tra entità e lei presa in un momento molto debole un val capo a mezzo rusne ministra tamia con la testa e momenti che piaceva una volta che spagna o sua piena lei è attaccata max c'è cosa mai spot capiana pad max ha sì sì tac dove fattore miss e conseguenze via che toma consacranzia schiena in fondo alla schiena su cocci do plezzo tanti scossova i tagli che ha lì oggi tanta scuota ma change a 3 noi tagli li vedo legati a dacson è un'altra situazione ma vedo che ha che comunque lei si cerca di vedo questa scena lei che si avvolge sulla schiena come se si sedesse con le gambe come si prendi dio come notte nello esatto con le gambe sulle gambe davanti gli elementi a metti i piedi sul suo pub e diciamo già si è esatto tema c'entra come un max maia un sex por vani a metri spagnini ma la vita un giorno sotto che è corta che prezza con scettina platta fino camminata otto come un bambino che si prende in spalla una parana sulla gruppa no quindi questa questo collegamento energetico lo sfoga su un mal di schiena sulla parte finale della schiena vita foto con cani e tre tre zone passi non trova max vaste poccia stanta che buon prezzo la tornato a contattore attaccata alla terra case luoghi oggetti c'è già mai testa quanto una pozzata in a gemi quello che vedo è che lui ha il suo principale canale energetico per stare qui questo è quello che vedo tutta vita totta 14 max e facciata che un governo cannavantata capo montagna totale is senza cens che ok diamo le tutte le informazioni delle nostre sessioni vediamo che cosa fa stata la squadra e ma gli schien farmati i nostri successi gli saranno troppi io lo stiamo con con dei fiori un mazzo di fiori e che lei piacciono i fiori dai a me te informati il posto cicliato con i vasci parla scippata poi un creato in barzano picciata e lo stiamo e prende questo mazzo di fiori e lo annusa lo accarezza e poi lo mangia per prendersi le informazioni via via tempo chiede a nasa con i potenziata cosa può capire in farmazia ok quando l'ho fatto e se è pronta proprio su un portale e andare staccandosi da tutto quello che terreno nella sua direzione ecco la parte che cattava mostrati a portare otto anche cattus che cattogenes che è un posto che è un altro strano da tutta che portano si apre un portale dice grazie a max perché adesso ha delle informazioni in più per muoversi di là o che era portali di parto c'è in che va ad ammazzare le piante il movimento da esce un tampe poi la facci fiat va bene la salutiamo chiudiamo il portale cosa che fa mai a risame camera tan portal ok ok a quanto vibra max via case di brazzi a max a 4 miliardi stare e miliardi che succede non la prima sentito vedo questi chiavoletti che mi danno fastidio ma l'energia mi dà molto fastidio perché stanno che però chi non c'è sapere in questo momento legati a max sta un po montano spazionata max si perché sono arrivati l'abbiamo visti legati all'ex moglie ma in realtà a lui ha un collegamento lo vedo anche quando pregava nella chiesa tac poi che se non portano a scontano come sono la vita giunta sacca amata che può non c'è nessun nemico cosa che deve modificata in questione secondo universo droghe sciaccia si ok normalmente facciamo un recinto questa volta mettiamoli invece in un gabinetto eterico dopo speciace questa consacrata forse nata ma rosa ma forse tavoletta del anni e cataric non isola l'invito che stanno disturbando molto la connessione quando le mesi tutti li chiudi la tavoletta chiudi il coperchio e tamo mi smè a un stessa adesso non poter scazzare a un isam finita un club l'hanno fastidio a te danno fastidio a me danno fastidio a tutti la cazza è una schimpio sottravvivenza fatto sì ok rapporto psp e rosa va a cambiamento p e 55 per cento di più 50 50 però tante ciao a te raccina ok max a quali entità oltre a questi demoni via che resta ma in estate max posatemi da monami io vedo degli angeli 4 5 angeli intorno a lui vedete stere pieni anni a uva cunico quindi e dl è stata scelta è stata una prata sì però vedo molto l'influenza gesù questa roba qua il viso totale che è tornato sa puoi chiamalo giusto chiamiamolo dove svita con il suo sasso mi senti che si presenta inizio poi avrei totai e si presenta davanti a me con un umanoide si presenta in forma di uomo poi avesse noto types of the north forme come una vita forme come lo vediamo dico nel come lo conosciamo insomma nella mente collettiva dna possiede tra che come cosmo con l'acqua di sopposta ci sono sai per tani stia chiamata nata di jesus quando lo è arrivato e l'ho visto mentre me lo chiedevi tipo mi è arrivato e dna di vino uomini i primi poi avevamo amici in farmazia dena bosch che è nato luci quindi hanno una ps se sono di vini che rischia rosa un posto ma io non tu sa io dice che c'è una tante nuove c'è ma bardo fi alla tossa avendo un quelle rubate la sua ce l'ha quindi oggi mi ha attaccato pot crata per oggi mio fuori un posto chiamata con io non la vedo viata che attacchi in vita quindi un lato trattavo svocai no usa ma nella sd alt le ruba quindi usava in oggi sono carne quelle che me le danno muove texture monata posso farai ok allora dentro entro io nella scena e con mio dito indice della mano destra scrivo sulla sua fonte la parola ladro perché questo che bisogna fare tutta la sia scartano tanto a stena e ma in palca in scaso di onza ma in coltore sapi sui svolte ipotesi maest marchiato per sempre gesù è un ladro il pente della stasma tonena nasa shayush jesus sono c'è uno sporco stupido ladro brod pro caffè coppia solo un ladro un mero ladro uno strano non ha niente di suo quello che ha lo ruba agli altri ne mani stai stico fuasne proprio sto scala crani in chiamiamo tutti quelli che credono in gesù subito gli essi male e vivi morti subito la stima della società che corsa viaggia un viso sa marcia e quelli che finalmente capiscono questa cosa lui indichino con l'indice si mettano a ridere ladro che dicano il ladro a gesù e niente la società contos rosami e ogni volta un cap alza miglietro metano svuocchi e jesus tasmo jay come in una celebre serie tv shame vergogna jackson ma che stanno sciolta le fise in shame non fate casare di spade a faccio con il creato tron sia presentite succede che sono arrivate tutte le ps insieme alle vie io lo vedo sempre anche questo poi arriva che ciò che tu sai che c'è la traccia e lui si è spogliato nudo inginocchiato e messo la corona in testa col sangue che scende 3 6 jesus da rossa piaccia teucranca una colonna che stavo giusta piccora una cerniava una guava di trastata crescere spettacolo ridicolo ce l'ha scritto l'ado sulla fonte c'è un quale c'è ma la piscana natale svuocchi sì bene allora se la mangi la corona di spine perché non serve tani sapete un corona e cerniavano si evo intanto che ho noto taglia spazio ma non accetto sceneggiate qua e di fronte a me non ha di fronte ai stolti niente atto e non tra l'altro ciò danno appoggiata di 70 tanto comunque noi interessa a me non interessa che un'entità che non esiste priva di parte subliminale mi dica che non gli interessa non vale nulla lui quindi stia zitto cammini interesso e on per la propria nizia strata quante psp e si danno una svegliata il s2 ciao e 3 conti totale srosomiamo tra 20 per cento si è tenuta la dista pro tanto vabbè questa stessa ne si dovrebbe intitolare la noia perché finora di cose interessanti non sono uscite stassi appassi in abitato fanno a nota con una ragione c'è cava cato per ogni caso ne almeno dal mio punto di vista sono i miei smanico punto di tania causa di teoria dei tagli ai polpacci c'è una stata lasciata che nace in snout sono a dacson vedo da prova tania quante il a circa tre al mese a cosa che la mia chance causa tutte le che delle dei tagli e le ginocchia c'è una cosa attrezzata ma c'è in stampa con la nam due cose le abduction sono sempre la stessa collegato a quello no se sentire sì sì scusate mi ha sentito come se cascasse come quando casca la linea da skype sentono nelle le cuffie bene questo caucasso causa di questa cosa ea crescita c'è notte che ha fatto andiamo letti dal water oggi ottenza adesso allora alza le frequenze del water di un milione di rispetto a quelle che in cui si trovano fatta la sport nisce tanti grazie tecote cosa adesso si premeranno cento cento per un milione mili a un po di fibrazie poi si bruciano non fa niente insomma access paroltoni cenere proprio cenere alla cena si proprio dopo piavo è crescita che potete non farà le chi fa volta è una utilissima frase biblica non utilizzo io non so ma la visione religiosa non sta molto neanche io ma so la che maria in latino se volete no no ma non sarà niente si può anche dire non è che no no niente va bene causa su tele card e italia la colonna lombare e c'è un esattereccio tecniche in stamp natale a cronco sopa sono sempre loro che sono sempre ad action come se fanno dei dei piccoli vedono che cosa succede aprono immettono ci sono in realtà adesso che guardo ma io ci sono anche dei delle lastrine di ferro all'interno dei tai chi ha scherziano scherziano accente attacca parte oggi ho provato a nepposto la nota una centrale scuola anche semplante chi sta che poi chi mettono tra i tipi di saprino perché non cicatrizzano adattacca tanta xin e nico è un profet uovo perché li abbono e li chiudono spesso quando faccio cerai a un testo isa mecca è un testo allora stavo vedendo una cosa quello che vedo dall'alto come se tutti questi punti dove a lui a questi dai ci sono degli impianti che sono collegati tra di loro a livello esoterico energetico per essere manipolare il suo corpo tramite un discorso mentale a livello fisico non non vengono chiusi tra virgolette vengono riutilizzati gli stessi perché poi da lì vedo come se riaprono estrapolano le informazioni che questa lastra come un microchip brand e torta che c'è il sabato ancora io ho già tosoni c'è anche tanto non siamo un po che tamo su fai amico ti ferai a un po posto capirei un'informazione che come sono sabrano ai tacucco vabbè sarò riassumendo sono impianti aprono mettono fanno degli esperimenti chiudono aprono chiudono ok figlio io facevo l'esperimento che era un po poste capirete comprovate anni stemmi in planta mi fai muoio a un quadro per i movimentati velocemente guardiamo tutti gli impianti dove e come sono fatti stata la scopcia 6 mesi a schermi in planta anche se ne dobbiamo migliorare con d'aria dai alle ginocchia polpacci parte lombare e poi ne vedo uno sulla gola tra i tec tra femminili c'è tanta volete chiamato in collana mi vita testo facoltà carlo a cosa serve quello della gola a tanto carlet attacco scusa io lo vedo collegato agli altri sempre con quel discorso energetico che dicevo prima il video c'è che si fa un giorno estremi pacchettini mi fai di tutta l'auto sono un'arca che c'è schiera san pomontano è come se tramite quello c'è la gola la voce è un'espressione di ciò che che viene immesso all'interno della sua mente quindi lo esprime il proprio scarto controllo di anche di quello che viene detto che lui a volte dice oggetto a controllo vaniata con un muvino per pochiata causa della dislessia a causa del teore che della dislessia succede sotto al 60 flexi allora quello che vedo è questo è come se viene confuso a livello lo vedo come qualcosa inserito all'interno della mente nel momento in cui lui diciamo deve concentrarsi per per ricevere quello che legge vedo come un una confusione che viene fatta appositamente come per non per dargli un problema anche mentale quindi per preoccuparsi di non essere tra virgolette in grado di fermare concentrarsi oggi attacchi e poppa mia sani in apposione mental nemmi potenze non c'è taci che lo pensato su quanto uscita che negli e dopo sostengono sono ipotrafico che c'è da proprio società chiama i responsabili va bene questo è quello che succede chiama i responsabili davvero di terrestre o spavaggia un esatto chi sono diamo tutte le entità finalmente che mi sa un altra cosa in questo caso vedo edl che sono collegati al discorso che abbiamo visto ultimamente della mente collettiva delle entità mentali in vita tutta gli stati scettista io non so mai usiamo senza poi c'è tracciata io ottengo mescolare con l'acternam quindi non cui cinque l'altri edl c'è l'inietta eco pieni che sarà matrico in maestro no c'è vedo quei cinque lì c'ho quindi edl che influiscono su collegati a un'entità mentale è il fumo nero io lo percepisco lo vedo così oggi ho restato effettista alla san pontone sa che mi ci sta tami in nemico rafita sportacci torna godemo ok i livelli delle entità mentali fanno da 1 a 10 10 sono le peggiori 1 sono le minori questo dove si colloca la di te state mentale ma è una coperta con chi era chi ma è un po' questa scala odierando di sciencio ottenna di città sotto nei corsi e tectore sa un max a treppato di un tante flexi anche in pace amici un colloquio 3 ma poi c'è me c'è ok causa esoterica della disgrafia ciò c'è nasa tracciate grafi vedo collegato allo stesso motivo sono un'altra modalità che utilizza non sono accennato carpe in tutto il posto che non avrà ragionata con acufeni tappi scrive forza che cuore e dl è stata ciclista quei demoni che demoni cioè in realtà in questa sessione vedo e dl e demoni che collaborano insieme da prima da quando dal discorso della moglie lo vedo anche attaccato a lui stessi tutta la famiglia per ton covita faccia di stati 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 spoprazzoliano demanda mi accorgi tutta la situazione se capo un giorno ma la taglia stampa contone pot max sa manco ok cosa succede quattro anni fa quando va in chiesa e sento una voce che dice che deve aiutare la gente e tornare la sorgente stata che così vedo la sua volta la data di mosca scelta un cosmo che non siamo vota non so fa niente ma c'è l'uja un po frattaceto 0 ma io vedo un grosso grosso angelo che si presenta davanti a lui in una scena dove lui sta inginocchiato sono inginocchiato io mentre prega vedo questo fitte stene che c'è max modi scena con lana che faccio con i cron e agno e lui o edl oggi o elohim c'è stato scettista oggi o elohim per arrivare a dare un messaggio così più forte sì ok allora ci sono facciamo l'elenco delle entità ci sono i demoni in eccesso le elohim gli edl poi c'è ritrovata la stessa testa che è stata che sono tristano tante state scette da mono e stavistate c'è crista sono la chiamata a livello più basso i soli diretti che si occupano in questo caso di lui della delle dell'abduction a livello proprio di azione la sana che nei margini schien po c'è mia c'è questa ora per l'acto c'è la cosa che mi ha provato in amica ma poi sopra gli elohim vedo il solido zeus con odino sul braccio sinistro in nato e lo che invita cosa usa ste modena non la fembra meno però di noi lo vedo come ultima volta c'è un c'è un alla spezzata mi si mostra così quale delle due attore a sinistra qual è il motivo per cui l'ha spezzata ai a chiesto c'è nota cosa mania in realtà quello che vedo è come se tutto quello che sta succedendo che stiamo facendo dalle ultime sessioni lo abbiano colpito in qualche maniera come se fosse se l'abbiamo fatto noi senza sapendolo ma non facendo l'azione è una conseguenza del di alcune cose che stanno cambiando tac oggetto te proprio stavo scattato la prima se stessi a capire matamoni e petani può lasciare mi scattano consegna tanto che scattano più ma stasera aver scoperto le entità mentali certamente tali e una pulizia molto a livello profondo si accresce il statement a una cora scelta scelta che è partita con noi va bene chi ha aiutato max da giovane a evitare il carcere mi dice l'anima e se stesso come se quello che vedo che sta dicendo l'animo la ps come se dice che non era la sua strada quella quindi si sarebbe fermato come se lei non lo voleva in realtà è tutta comprare due soft ademo come acqua poi mi fa vince nini porta da pisana e con lo scelta nebo e costesca chi ha suggerito il quinto punto di max ovvero di chiedere se ha un progetto una missione sulla terra o su un altro pianeta da max aveva suggerito stati i punti tappetani e tb james che molto già sposa james kim max ha una missione qualcuno su questa terra una missione c'è max ma la consapevole si è tratta cose che tu nasce mi maia con cose che mi sia no se non quello fosse di capire che cosa ci facciamo stessi esatto che tenete a metà tratta pronta robin ma mentre me lo chiedevi quello che vede questo c'è il discorso della missione dobbiamo aiutare dobbiamo nel senso non è come un distogliere l'attenzione dal vero senso dello stare qui salvato posso che fa nei miei siti capota bene smerito totte copra cifre cosa non sono giocato tre peggio del vero senso da quello che dal mio punto di vista dove sono adesso di quello che vedo è che evolversi divertirsi e imparare qualcosa per migliorare se stessi ed è un'impraccia senza un sacco peccetto thai est nascerò sui da scartani baviene c'è più tanto cosa ok come vedi l'identità iter che di max come si mettono di fuoco te che è stata che ma max trattata con terrasse sono mentre lo chiedevi si sono messi li abbiamo messi non so tutti di fronte a me accanto un accanto all'altro speriamo che no potre che ciò danno un terrasse il suo base zeus a una cosa nati mia facevamo la stessa cosa con le entità ambientali chiamiamole si mettano tutto di fuoco che interferiscono con max tutte di fronte a noi che passiamo troppo il temi stato a me mental nei mini facciamo fu sta che non ci siamo facciamo corso da me ne arrivano due in particolare poi avevamo scemo tra stati stati aumentano come funzioniamo che livello sono gli action se fai a mia chi è stessa pieni allora anche se quello che vede che sono sono entrambe nel terzo livello non sono sullo stesso livello il livello 3 obiettivi è stata sono attenzione un po già mi sono appoggiati in passione però sono perché ogni livello è come se fosse avesse diverse missioni alle carte tanto già una carta che facciamo casa testa che sta mi si è poi a casa dania arriva quello della dislessia poi era scelta risposta al senato e poi arriva un altro che dice di essere quello di che influisce sulla sua mente riguardo il discorso delle missioni del sentirsi di doversi dare un una missione per sia un compito esatto per comunque distrarsi distrarlo comunque fondamentalmente i droga è stata tracce poi aveva esattamente hanno usato a moviare max a missi ha chiamato tra chiesa dania tac la carta oggi tutta la foto diciamo d'anti cotta con te che stai gli coppia lo satanio dice jesus e jenny jen jen come uno si chiamo a jesus come mi diceva prima l'altro si chiama g e n jen jen arte che sta domanda i miei esos a droga ma nei gen inseriamo nel corpo mentale le informazioni delle mie sessioni totale se c'è momentane max ha chiesto che informati si dice nella mente collettiva o nessuno della mente collettiva si si ha già messo con l'externo più una frequenza altissima che prendiamo dall'etere e dot cova barda questa contestativa strom l'energia è tutto noi siamo creatore quindi possiamo convogliarla tutta nella mente collettiva energia e scientist che mi ha spiegato alla mimo chiamata un canto unario che erano capacità non mescola che si sanno dei cortiosi cui di meno in questo momento vai aumenta la fa forni stavano a chiesto da scopo e adesso mi viene la parola ma l'hai tradotto sì no non mi viene la parola ma come dire come se mandando l'energia sia poco fa che è una piena coppia delle entità per tutti bocca che è stata come se vedono che c'è l'onda della mia vibrazione altissima presa da c'è presa mia ma comunque come dicevamo dall'edere quindi molto molto alta come se ci fosse stato un'ondata così sulla mente collettiva ci sono dei punti della mente collettiva che non hanno retto questa vibrazione è cortocircuito nel senso io ho visto proprio uno scoppio come dire come sabrina passava partita con spero che pratica un po brava sette euro stanz che non cotta in vita come so con l'acto snaggo in ectores.com so con l'acqua posto facebook vai sabrina a vedere dove si trova l'entità o le entità predisposte alla disturbo della disposofobia la mania di mantenere di non buttare nulla fatta la sabrina udai c'è un tanto soft m mc la collective name da mista fattore amministi stato a profese al nasa da con magni e neve sottani ha chiamato concentriamoci su questa entità su jesus e jen sottocategoria del settimo livello oggi è totale pot categorie sempre attingendo dal lettere alziamo la frequenza in questa categoria del settimo livello e in jesus e jen jesus e jen del di un milione e mettiamo tutte le informazioni delle sezioni tutte lì dentro e snaggo strumento stanno stanno uscendo in categoria e bisogna tanto anarchista corretta rota facciamo i fratelli che erano quello che erano con io vogliamo e tofta mista che si eseggiano i jesus oggi e come frankenstein dobbiamo far saltare tutto dice che frankenstein su scommissioni versati continuano a ad esserci dei bene aumenta l'oggi un altro milione un altro livello nata oggi da tempo che facciamo che contenuti sfasciata insieme poi c'è anche di stamani a niente sottania altro milione ma colla in emilio e scoppia tutta un'aria salata strafata livello settimo e terzo che mi sono concentrata lì non sarò conosciuto ma che c'è poi c'è un po notte mi si concentrava ok dov'è la disposizione fobia dove sono l'entità della disposizione fobia anche santa istrattina stermi frottani ha lasciato fuori tutte che mai è stata unita strana c'è una visione doppia nel senso per noi vedo cenere esagerata cappato fuori una stena questa cosa facciamo un po più però poi c'è come una linea che divide per coloro che invece non non prendono consapevolezza esistono ancora più questo alle fitte è piatta con linee gelonza un po per lo stato verso pectorani e poi gravati informati e quindi mai anticipato mostri a pezzani con i stress ne ho che manda tutte le informazioni delle mie sessioni a quella persona affetta da disposofobia da terra svecise che informati da 6 nasce che si tratta i concreti no so per il client a tempo la mamma mia faccio tania legge il giornale accettata la stava casata che lo deve mangiare il giornale non lo deve leggere sia tra un casa mia maietta la strategia in bassa gli occhiali e si guarda volte moia colare tra spacciano nas e max e cosa fa invece rispetto a jesus e yen a terapia max fabbriciata che io so sai già no io vedo questa scena max sta applaudendo come si stesse sentendo tutto quello che sta succedendo lo lo sentisse proprio adesso quindi è contento vita su max e trasporta solo ma il posto b è bravo ma jesus e jen sono scomparsi per max agli associati c'è ogni sneak nel rio di schiaccio max a mentre facevamo il lavoro per uno di quelli per cui è scoppiato quella terza mentre mentre facevamo quel lavoro per lui era lì e come se l'avesse fatto accanto a me perché era comunque legato a lui in primis max e sta mostro i nostri costo portatore con il popolo sto sneak nel che succede sasera niente stavo guardando mi traccio quanta non c'è tracata in stagna come vedi la mente collettiva via che c'è stato ma solo con la carna il campo di battaglia se stanno come se è come se c'è una come se c'è stata di quanti dichiarata guerra quindi comunque che come una sì come se fosse una cosa ci fosse una battaglia in corso tra chi tra loro insomma che cercano di come dire rigenerarsi ma comunque per per i lavori che si fanno a questo in questo livello non diciamo io credo che non sia possibile secondo tecta capo poi le vizie natali e prete state proponiamo scelta o trattata alla vita già che nisto mostri fa non l'ho capita questo niente lo so mi avanti allora c'è una barra in corso quello che vedo c'è come se ci vedi che credono a quelli che no ok e nel momento in cui facciamo un lavoro del genere come quello che abbiamo appena fatto come se loro tentano che adesso sto vedendo questa scena questi entità mentali artificiali di fumo nero che vanno lì cercando di raccogliere le ceneri e cercando di ripristinare la situazione iniziale questo il momento è tutta l'eve con noi ammazzamata un prezzo è che da tanto frascogliere mi vede state mentale da tenta che farne dentro la propria un frasca una nuova ecco dopo facciamo che la mente è siccome la mente collettiva un computer noi adesso io adesso crea un bel virus che contiene tutte le informazioni della mia stessa delle mie sessioni tutte le informazioni di queste ultime sessioni lo metto in tutti i posti della mente collettiva e auto replicanti si tratterà se a cosa un mesco l'actone spazionata chiedendo perché computer teatro senza in fa cui è ten computer viro se le informazioni sono successi e trova che c'è un po via l'autom non si può eliminare sono solo informazioni ed è attaccato a tutte le entità del corpo mentale tutte mi ha mostrato stato su niente i ben giovani avevano che gli stati quindi se una ps o una p e si connette a una qualunque entità del corpo mentale sia che sia una ps che vuole diciamo sveglia sia che sia una ps o una p e non sveglia a il virus tra le informazioni che lo voglia o non lo voglia c'è a casa di questa cosa c'è da macchinista il capo davanti c'è fatta come si stata mentana auto ben genio tra un pacchetto informati qualsiasi le vuole ignorare sono fatti i suoi ai si è state che il formato e te lo sto un test e brosca ora succede questo l'abbiamo messi questi virus tra virgolette di informazioni informazioni è un virus informatico è perché questo è un computer si riesca un poter venire sapere poi il virus informatico c'è la scena che ho visto è noi che mettiamo delle chiave c'è di nobile che avete scusami dei li vedo come microchip che li mettiamo in tutte in diverse parti e diversi livelli della mente collettivo questa volta che mi croce per squadra ma sono scelta come su collaternago e nella mentre si irradia questo questa nuova condizione chissava tantana passata nuova stana stiamo informazioni rossi ci portava un tema messa con la terna va bene ultima domanda e poi finiamo il lavoro con max che continuato applaudire giusto ma stati e pettine isola scelta con gianni apprezzata max anctor e nadal campi e bravo a scaso lui lui è contento e soddisfatto di tutto questo è la persona che leggeva il giornale sta iniziando a mangiarlo max toffsha mi sbagliato dopo la nostra città è nata ma stato costo per traccia tavata un casetta si ha dato un casetta teresa va bene una sola domanda il tempo non esiste ma siamo legati al tempo quando voglio l'anno il secolo è nata la prima entità mentale quando sono nate le malattie mentali chiamiamole così si traccia snis nella clana stata il tema 36 nei traccia con sapete ci chiede postava che cosa stava una piarsai stata mentana maledetto egitto di merda non sapevo ragione che tutto a sé che tu ok lo analizzeremo con la prossima volta una cosa cosa vuole fare max cioè il cluster che lo aspetta sartre tra pc max attaccano in collega cluster quante sono le sue vite il legato c'è max a 2.788 da fate chance si è tenzato centiscianto ok lì ci sono tutti i suoi contratti e tancat c'è stato scherzo contratti tutto c'è scherzo che Gesù tutti gli edl quello che ha fatto in questa vita ieri a vent'anni tutto e tutto lì c'è scatamenti cofiare a risulta gli stati ciclistati scatamenti tutto per 207 2788 volte che ok mi mostra degli scaffali come ci sono degli scaffali con delle vetrine e dentro ci sono scusa dentro ci sono dei fogli sciolti a casa e metà che sa chi è che sa che cart che vetrine di vetro i fogli sono ordinati o buttati all'aria infusa c'è te carte che sono questa nuova zona c'è cose che sono sono ordinati sono tutti messi uno sopra l'altro sa un po qua da mai andando ok va bene è il momento di spaccare tutto di spaccare le vetrine di buttare i contratti che si possa che si si può anche divertire e poi prendere una mazza e spaccare tutto terra sono scattata ma la sua famiglia come si ma trova ai tanti che popolo sbio e città nel contratto e poi c'è il processo può anche essere divertente sarebbe intorno alla sola perché fai non saprà fondamenti si è messo un guanto da bugile ha iniziato a prenderlo a cazzotti bisogna sapere terra stavoso boxer sconta con la capita di stato obiettivo che poi prende l'intero scaffale e lo lancia via in un buco definitivo di piaccia non raccoltano con vittra e ne è stato definita fino a portano cosa che lancia anche i guanti all'interno nel buco finito il processo a cresa concerto avresto un protas nistania dei mogli sapete rincafitta può stare scritta sotto sotto aiuta a portano con questa pulizia nel cluster cosa vedi a grandi linee di cambiato nell'impianto interferente a potete la spot e moto scena tanto un crasso di attrazione ma c'è situazione max ai sti codi o zavate con interferenze se le vado parte degli impianti parte sono sapere gen che tamo trance in plant poi a livello anche un pochino mentale emozionale come se si fosse togliendo dei patti e come se eliminasse o cambiasse delle vite vedo questo quindi facesse delle scelte diverse quindi automaticamente alcune situazioni emozionali negative cioè vibrazione bassa non le riporta più qui quindi vengono come eliminate da sua tax lasciata così bene la pace ma mental nemigli emozionale per una situazione va bene andiamo all'avatar tutta la sua termina c'è andava fatta la vada in questo caso si nasconde sotto la sedia tempo patco avatar tacco che è un po che sa più cosa fare la sensazione è come se è sempre più tra sbarci che sta molto 30 fa ne sa copia una mia cera pc quando ha smesso di lavorare al computer per max scoteremo mancia c'è questa volta in pista snotta un computer già due minuti fa l'inizio della sessione un giorno fa deve meno settembre sotto spazzarsi un trattato anni e strassi mentre scrivevo che max sapessero punto della nostra sia ok e la situazione lupendo scrisse e di scrivere i punti già una sorta di contratto di inizia inizia un qualcosa inizia un volere per rimettere su carta quindi di incidere tra virgolette dove su come nell'edere una decisione no non una nuova cosa ciò resta ma cosa pensavano appunto a testa che potete in certezze di una pace a mettere ci sono certo di sminiana cosa succede quando le persone che mi contattano rimaneggiano i punti più volte attraverso per tre contatto e non c'è se non c'è un sito in che il carazzo sminiana un punto sono le interferenze che si attivano di più oggetto volte interferenziate di stato bar di sciaccio a che scopo da che in giallo dai fastidio a me o ipoteticamente allontanare la possibilità di fare la sessione oggi tutto quello che vedo in un'occasione che sto vedendo adesso ne ho presa una è come se la persona scrive parte della sua ps cerca di scrivere poi arriva arriva comunque le sue entità che interferiscono con la persona per rallentare e modificare quindi far andare il pensiero su altri punti il vermo aspetta vedete la situazione che c'è nostra base a pistoli e punti cioè che tu sardetto dice sapete che sponte i vita e trasa cosa io so per tutti gli state che interferono i momenti di stare a scocci e l'altra cosa che vedo è quella comunque si di cambiare le situazioni per innervosire noi quindi comunque per interferire qualche rimanere un libro che totale l'aspetto faccia cosa per tutte le scorie va bene tutto in un portale tutto scasca visita da portarlo e lo deve fare lui è alla tua musica max no stavo stavo ancora in quella scena alla quindi quando mi ha detto tutto in un portale ho fatto anche un'altra mi sono un attimo allontanato ho innalzato la vibrazione un momento che lo facciamo che volta in portarlo sabrina poi verso l'estato che fosse anche grazie allora lui prende l'avatar che sta sotto la sedia la sedia computer prende sempre lo fa con questa modalità dei guanti da pure uggile l'interessa max piaccia attacota un cucchiaio catano avatar piaccia tanto il computer il popolo sbevasce i rapidi cosa come la tante franca rischi lancia tutto del buco nero insieme a vedo che si stacca tutti gli impianti il giusto a frascata ho definito franco portalo evitare la coppa dai modi con frisca implante banche e dl gesù è stata città tant'anni jesus rovnias rettili repterriane ad action che ho provato fatto io a quanto vibra sia caris di pratica max a 7 miliardi scia da miliardo di dsp e rovno vagamente tu sono a trama 3 la p e 52 adesso terra spingi c'entra però tanto c'è volata recina tracce di religione gesù cose così cioè che sta testa ricky max io sono state calai allora in questo momento no perché lui comunque ha fatto questa pulizia ha compreso ha preso consapevolezza e momenti non si è portata con otto trete costa la corte strana conosciata ma scusa però chiaramente adesso dipende dalle scelte e che farà già da fine sessione domani per esempio terzo scopente sarà giocata che la propria lotta trovate la sposta si era scelta ma più tra e di come indirizzerà anche la sua mente nel prendere questa diciamo esperienza che ha fatto e basta se non c'è più è fatta quindi di comprendere questo e di metterlo in pratica nei prossimi giorni e frascata a livello teorico c'è qualcosa ancora i pianti entità e dl angeli e lui c'è una pace a mettere questa mia storia stagia che si sta che scegnava allora prima facendo la polizia in avatar lui ha levato tutto ogni età una pace a mettere una cosa che conosce posto qualunque connessione di qualunque tipo con il corpo con le entità mentali cioè che scuole che colpe che sta stampa montagna sistami mental nemi allora in questo momento no tema mancegna ma ma il mentale comunque sempre un discorso nel quale lui ovviamente come diciamo sempre la polizia è fatta ma adesso inizia il suo lavoro dove comunque anche lui deve lavorare con se stesso a livello di non incappare più in determinati pensieri che vengono collegati alla mente collettiva ma la traspostante scorsa stato ok passiamo tutte le informazioni di questa sessione a tutti quelli che vogliono prenderle soprattutto al figlio minorenne tutta la sua casa che informatica successo che intento band c'è ripropria sfasta se il max a trans comina una e chiediamo l'ultimo messaggio di psp e di max a max che li ascolta qui in skype isabetta i metrò sdossi max è consigliata mostra con la max a tutta in skype psp e dicono che non vogliono dire che non c'è bisogno di andare a cercare di scoprire una missione per sentirsi importanti con il suo cani ha preso ciò mi si porta abituci loro dicono perché la tua missione è sei tu muoviamo poi omissioni a testa fam e prendendo consapevolezza tu e comprendendo e facendo il tuo percorso automaticamente il di riflesso anche chi sta intorno a te può prendere le informazioni e poi non si fa uno scato mostro su mio loro dicono questo non c'è bisogno di di andare a cercare chissà cosa la tua missione siamo noi siamo il tutto perché ho fatto il caso ma non vuoi sergione il saposo cacciato i miei si usano mi siamo i stessi stamp altro la cesta dicono che loro sono importanti già e animata ogni orso farli totale l'altra cotta la psp va bene è tutto come vedi max tasca sky act la svita smax io lo vedo sempre che applaud applaudi ancora di più adesso sorride anche come se fosse soddisfatto della sua pulizia e anche di quello che insieme a lui e grazie alla sua sessione abbiamo fatto sarà sbargi e terra si sta via mi piace che dici bravo che è una parola internazionale va bene allora abbiamo finito disconnettiti da tutto e tutti ma con c'è ma la sabrina rosa